Buonasera amici di Rugby House, nuova stagione insieme, nuova stagione che parte allo stesso modo, nella stessa maniera dell'anno scorso, nuova stagione 2017-2018, la FEMICZ Rugby Rubio Delta espugna Reggio Emilia, non alla Canalina ma al Mirabello e come prima puntata noi abbiamo deciso di ripartire come nella passata stagione con due ospiti illustri, ovvero il DS della FEMICZ Rugby Rubio Delta Stefano Bettarello, ciao Stefano benvenuto Buonasera a voi E direttamente dal Gazzettino Ivan Malfatto, bentornato Ivan Ciao, buonasera a tutti Quindi dicevamo, vittoria in trasferta, la Rubigo Corsara in Emilia, Stefano una buona partita, ha portato i primi 4 punti in classifica, sotto certi aspetti è importante vincere, no? E' logico che le prime partite sono sempre delicate, noi ci siamo presentati contro una squadra che ci aspettava con il coltello tra i denti e devo dire che sono soddisfatto di questa prima prestazione anche se logicamente dovremo lavorare sopra per cercare di affinare le qualità che comunque si sono intraviste e secondo me emergeranno in un prossimo futuro Ivan, un Rubigo che rispetto al preciso ha dato qualche segnale importante di miglioramento? Sì, secondo me sì, anche se prefererei sottolineare le cose negative, non per spirito di disfattismo ma per spirito di costruttività Le cose positive al limite gliele lascio sottolineare a Stefano dopo A mio avviso, hai detto bene tu prima, siamo ripartiti come campionato e non solo come Rubigo da dove ci eravamo fermati l'anno scorso cioè da un calvisano nettamente superiore a tutti È l'unica squadra che è riuscita a fare i cinque punti, rispetto a Rubigo ha dimostrato, nonostante i cambiamenti che ha fatto i giocatori che sono andati via, ha dimostrato efficacia e concretezza andando a fare quattro mete in una situazione simile a quella di Rubigo in trasferta con una squadra ostica e perdendo tra l'altro un intero tempo mentre Rubigo era riuscito bene o male a raddrizzare già la baracca alla fine del primo tempo E quindi Rubigo deve riprendere la rincorsa sul calvisano e colmare questo gap Dovrà farlo cercando di svolgere quel gioco con i tre quarti di ritmo, di passaggi e di mete che è il suo progetto di gioco quest'anno ma che a Reggio Emilia si è visto a tratti dovrà riuscirci uccidendo le partite quando vanno uccise nel senso di risultato Ovviamente a Reggio poteva farlo all'inizio del secondo tempo quando ha segnato la terza meta e invece non l'ha fatto ed ha permesso alla squadra avversaria di tornare sotto break e dovrà farlo dimostrando di avere questo tipo di efficacia nelle prossime partite e già dalla partita con le fiamme oro che non sarà facile Ecco Stefano, Ivan si è fatto portatore degli aspetti da migliorare Un aspetto positivo è che questa partita di Reggio Reggio comunque ha avuto un pre-stagione molto positivo la vittoria al Pedrini, grande entusiasmo anche delle affermazioni, dicevano noi siamo pronti per il play-off Rubigo è comunque a prescindere da tutto è riuscito a placare perlomeno in questa prima giornata gli entusiasmi da primi quattro posti della squadra emiliana Il Reggio Emilia si è rinforzato molto diciamo che dal punto di vista di proclamare gli obiettivi così in maniera abbastanza palese come è capitato alla squadra del Reggio Emilia può da un lato caricare i giocatori dall'altro lato può mettere di fronte magari a una cruda realtà nel senso che affrontare il Rovigo pur manifestando le idee di arrivare ai play-off e avendo sacrosanti obiettivi di vittoria non deve comunque far passare il messaggio che la sorte di noi rodigini lì al Mirabello era già segnata infatti la partita ha consegnato un'altra immagine del valore delle squadre non tanto perché il Rovigo abbia fatto cose mirabolanti ma solo perché il Rovigo ha dimostrato che quando è stata ora di cambiare ritmo alla partita l'ha cambiato non è mai stato se vogliamo seriamente in dubbio sui valori finali anche se mi ricollego a quanto ha affermato Ivan potevamo e dovevamo uccidere la partita e non ci siamo riusciti però secondo me sono sono errori di crescita la squadra per quanto possiamo immaginare diciamo che abbia un buon futuro davanti a sé è stata cambiata in giocatori importanti come i giocatori che hanno lasciato la squadra e quindi c'è comunque qualcosa da ricostruire e da rimettere diciamo nel senso di marcia per cui ci possono stare è vero è vero che il rammarico per non aver fatto il punto di bonus resta anche perché lo avevamo costruito con un multifase splendido alla fine della partita e lo abbiamo gettato al vento per diciamo per un eccesso di non parlare nemmeno di superficialità quanto un po' di egoismo o di sottovalutazione dell'avversario pensando che ormai essendo là poteva andarci chiunque in meta quando invece bisognava dare la palla al giocatore libero però ecco il Reggio a scanso di equivoci è una squadra molto migliore dell'anno scorso non migliore molto migliore e con noi ha fatto secondo me una partita secondo quello che è il loro livello di prospettiva poi giocare contro il Rovigo non è facile ecco tra l'altro Stefano mi ricollego a quanto stai dicendo guardando che il calendario è ovvio che sono poche fuori per cui qualche ragionamento lo si fa un po' di tabella di marcia viene pianificata avendo molte sfide al Battaglini vince in trasferta ha un peso sicuramente importante nello sviluppo di questo campionato nel raggiungimento del primo obiettivo che sono i playoff la differenza nel corso di una stagione è sempre fatta dalle vittorie che riesce a raccogliere nei campi in trasferta partendo dal dogma che in casa non puoi lasciare punti cosa che l'anno scorso è successa e che quest'anno abbiamo bene impresso non debba accadere non tanto perché voglio dire non non siamo coscienti di questo quanto perché se dovesse accadere vuol dire che effettivamente il nostro livello non sarebbe quello preventivato e noi invece siamo fiduciosi e stiamo anche lavorando perché il Rovigo di quest'anno sia una squadra che che possa ambire per arrivare fino in fondo nella maniera con un percorso migliore questo ci aveva insegnato il Calvisano l'anno scorso che ha fatto un campionato strepitoso e noi non dobbiamo avere paura di dire che dobbiamo prendere ad esempio anche quello che ci ha fatto vedere il Calvisano perché effettivamente quello che ha fatto la squadra di Massimo Brunello è stato un percorso che noi vorremmo vorremmo fare anche noi Ivan c'è un po' di lato scaramantico in quello che dici voglio dire sei stato negativo e ho dato i lati negativi giustamente anche perché mantenere un profilo basso a Rovigo è sempre importante soprattutto in un momento come diceva Stefano tanti cambiamenti un piano di gioco che è in evoluzione un work in progress che forse Reggio Miglia ha qualche mattoncino in più di costruzione ha trovato sì più che scaramanzeia parlerei proprio di strategia a mio avviso e di senso e di consapevolezza di quello che è Rovigo su questo Stefano è molto bravo quando parla di queste cose perché a Rovigo tu devi sentire che sei in un ambiente dove non basta vincere non basta fare bene devi fare sempre il meglio a maggior ragione se hai un avversario come il Calvisano e probabilmente quest'anno ne avrai anche degli altri le Fiamme Oro che hanno dimostrato di fare un percorso quasi perfetto come quello dell'anno scorso e che dimostra di interpretare nel modo migliore quelli che sono questi tempi del rugby all'epoca della Celtic cioè le squadre che si ricostruiscono ogni volta praticamente cioè la peculiarità del campionato italiano da quando si è entrati in Celtic League è diventata questa una volta i migliori giocatori le ossature delle squadre restavano stabili adesso cambiano in continuazione soprattutto anzi se si tratta di giocatori giovani in crescita quindi Calvisano sta dimostrando di avere una continuità in questo tipo di approccio di filosofia di gioco Rovigo deve dimostrare di farlo altrettanto e a mio avviso in un ambiente come Rovigo passionale ipercritico con la città addosso i tifosi guardare gli aspetti negativi da migliorare senza volere per questo condannare o dire una squadraccia è l'approccio giusto per riuscire poi ad arrivare a questo punto se vuoi che ti dica uno degli aspetti positivi della partita che insomma è stata sotto gli occhi di tutti è stata la netta supremazia della mischia che non vuol dire che questo ci porterà ad essere dominanti con tutte le altre mischie però esperti allenatori lo stesso Massimo Brunello se non ricordo male mi ricordo che in una chiacchierata precampionato diceva che la mischia del Reggio in teoria si era molto rinforzata con questi sudafricani e quindi vedere la mischia del Rovigo che l'ha dominata in questa maniera se davvero la mischia del Reggio sarà una delle più forti del campionato è sicuramente confortante poi ci sono anche altri aspetti abbiamo parlato per tutto il campionato dell'apertura ne parleremo ne parleremo intanto andiamo a vedere gli highlight della vittoria a Reggio della Femmice Z Rugby Rovigo Delta nella prima giornata di campionato e ricomincia da Reggio Emilia l'avventura della Femmice Z Rugby Rovigo Delta stagione 2017-2018 anche l'anno scorso era così lo stadio era diverso e la canalina qui siamo al Mirabello e del dirimpettaio reggiano in realtà viene fermato d'amico di spalla col fisico il bolognese l'esordio ufficiale della Femmice Z Rugby Rovigo Delta dopo il passato Sandonà Davis attenzione il buco di Davis va lui cerca di navigare non c'è il sostegno ma non riesce a alimentare il sostegno di Boggiani c'è un vantaggio però per Rovigo Ferrarini probabilmente è il colpevole di questa infrazione palla che va a largo con Cioffi che converge mette a disposizione l'ovale per Ricchi Loro si riposizionano i tre quarti rosso-blu Andrea De Marchi oh mamma uno scontro durissimo resta giù De Vodier De Magli ha insomma entrato come si deve intanto Rovigo con Odiete manca l'appoggio a David Odiete basta ricordiamo Zebre poi Mogliano poi Benetton e la firma quest'estate pronto alla trasformazione prende la rincorsa numero 11 Reggiano mi sembra ben diretto direzionato questo vale ottima la pre-season dei diavoli emiliani nel frattempo Marco Antonio Gennari infila l'acca bandini in su 100% il piede in questo momento per lui parte parte il suo calcio ancora bello dritto in mezzo ai pali per cui mantiene il posizionamento con i propri compagni Ricchi Loro pronto tutti se ne impaccano già ingaggiato ottima la posizione di D'Amico che sta già guadagnando terreno questa è meta tecnica blessando direttamente in mezzo ai pali 7 punti per Rovigo si è proprio D'Amico come l'aveva imbragato perfettamente si il numero 9 rosso-blu altro up and under la corsa di Odiete ancora pastigiano le seconde linee del Reggio potrebbe giocare Rovigo velocemente Edo Lubian Ortiz a domestica in qualche maniera all'ovale c'è il sostegno di Denis Maestrovic converge cerca una falla nella rete Reggiana ancora dalla Chiusi potrebbe giocare siamo in più vediamo se Ricky Loro lo fa Ortiz eccolo qua Cioffi Massimo Cioffi rientrato per 10 minuti la meta di Massimo Cioffi e l'esultanza dei tifosi rosso-blu a corse qui allo stadio Mirabello tenere il campo aperto perché dal punto di incontro successivo alla corsa di Maestrovic si è andato a toccare di nuovo la chiusa con Loro Ortiz e alla fine ciao se Boggiani e proprio Samuele Ortiz a prenderla attenzione buon numero e buona chiamata con Edo Lubion che va dentro bellissima giocata per Rovigo all'undicesimo non entra questo pallone per cui 22-9 rosso-blu Manghi il lancio la presa di Dell'Acqua Lucio Rodríguez e qui qui se ne va attenzione Gennari il sostegno Paletta è di Paletta con la meta di Paletta è successo qualcosa in mezzo al campo Antonio temporeggiare non c'era un interno che lavorava in difesa quindi alla fine attaccando la spalla interna è stato bravo poi a liberare Paletta che è un combattimento rude ma è anche fair play la buona presa Dio Ruffolo il Coro Vigo può cercare deve cercare la quarta segnatura che vorrebbe dire bonus avanzamento del pack è intanto anche Gullo Zanini al posto di Andrea De Marchi riesce ad arginare in qualche maniera Reggio Emilia Ricky Loro muove per Jordan Davis c'era una stretta per abbozzata per Dennis Maestorovic ma che non ha completamento e qui ingenuità fa tempo diete facile facile per lui Rovigo lunga 25 a 16 Brugnara ancora Rovigo Zanini odiete attenzione Davis 2 contro 1 di Bifi che non va ad alimentare Ruffolo che occasione sprecata da Rovigo che occasione sprecata da Rovigo ancora però Rovigo con Davis non riesce a darlo vale subito a Zanini vediamo la scelta di Ricky Loro potrebbe andare su a dieta e messo fuori da Visaghi e qua finisce il match secondo me il fisco di Blestano Rovigo vince Reggio Emilia ma si deve mangiare le unghie le mani i gomiti i capelli le orecchie per questo ultimo possesso si diceva che la Femme CZ Rugby Rovigo Delta è ripartita dallo stesso punto dell'anno scorso e prima di vedere gli highlight con Ivan si parlava appunto dell'aspetto legato alla mischia ordinata Stefano che ha offerto una prestazione assolutamente di livello valutando anche il fatto dell'uso dei piloni per 80 minuti quindi grande sicurezza una mischia che ha un sistema vincente anche per questa nuova stagione sembra dare gli effetti positivi sappiamo che Joe McDonnell è un grande allenatore della mischia e lo sta continuando a dimostrare perché la mischia del Rovigo è diventata un punto di riferimento più che per noi per le altre squadre perché le altre squadre in effetti quando devono incontrare la mischia del Rovigo sanno che non basterà fare il compitino ma devono veramente mettersi in gioco al 100% per quanto riguarda diciamo altri aspetti positivi secondo me c'è la mischia sicuramente e c'è anche la capacità di accelerare quando la squadra ha sentito che era il momento di farlo bisogna migliorare anche su questo perché come ricordava Ivan dopo la terza meta potevamo e dovevamo cercare di fare quella acceleratina in più che magari è facile a dirsi un po' più difficile a farsi però dobbiamo essere mentalmente programmati per fare questo perché se è vero che siamo arrivati con i piloni all'ottantesimo vuol dire che dal punto di vista fisico e faccio i complimenti al preparatore Giuseppe Diana perché ci ha impostato una preparazione che si vede è concreta è solida nei fisici dei ragazzi e quando ci sorreggono appunto le forze dobbiamo essere in grado poi anche di avere chiaro in testa quali sono le cose che servono per arrivare in fondo a un campionato cioè non perdere punti inutilmente in questo caso nota negativa è successo con noi visto che abbiamo questo grande ramarico di non essere riuscito a portare a casa il bonus e che quindi deve giornata dopo giornata costruisce la classifica finale perché non nascondiamoci che per come è strutturato il campionato italiano chi arriva primo quindi ha il grande vantaggio di giocare in casa non è così semplice poi trovarsi a giocare in un campo che non è il proprio conoscendo un po' la tua visione il tuo modo di interpretare anche il gioco punizione in mezzo ai pali a 75esimo con una quarta meta comunque da fare da raggiungere per ottenere i 5 punti è stata giusta la scelta di piazzare o avresti rischiato? no in quel momento era giusto piazzare però perché da più 6 si passava a più 9 quindi si creavano i presupposti per fare in maniera che nel finale loro magari si sbilanciassero e tu poi magari potevi punirli un po' più facilmente e poi mancavano ancora 7-8 minuti quando 75 5 minuti sono paradossalmente sono un'enormità insomma da giocare fisicamente loro molto in calo ce l'hanno molto esatto per cui ci stava tutta è una una visione una decisione che ha preso che ha preso il nostro capitano Edo Ruffolo in maniera veramente molto saggia poi a dimostrazione di quanto ha detto si è verificato questa cosa cioè si sono create due occasioni da meta soprattutto quella in cui Biffi invece di fissare passare il pallone la persa che avrebbero portato alla quarta meta anche perché mettere il break e quindi in qualche modo mettere al sicuro la vittoria dà una maggiore sicurezza anche poi nell'eseguire come secondo me è stato restando su questo tipo di ragionamento che fai tu come invece secondo me è stato la dimostrazione della grande consapevolezza dei propri mezzi non piazzare in mezzo i pali nel primo tempo in quella serie di mischie che poi ha portato alla meta tecnica ecco lì un atteggiamento conservativo avrebbe portato a pensare solo in inferiorità numerica segno invece la consapevolezza di avere un pacchetto dominante e la fiducia di poterlo dimostrare ha portato a fare questo tipo di azione tra l'altro per come vedo che assegnano le mete tecniche adesso forse doveva essere data anche un fischio prima insomma comunque l'importante è che sia andata ecco il valore poi tra l'altro della mischia con i nuovi regolamenti con la diciamo la linea di concedere meno punizioni e far giocare molto di più va un po' a cambiare anche quelli sono non dico i piani di gioco ma quell'aspetto mischia fallo punizione tuscia viene un po' meno si tende a far giocare di più per cui anche un po' l'approccio può essere differente sì beh questo questo vale per le squadre che decidono di avere a disposizione una piattaforma d'attacco la cosa che è stata secondo me che è da sottolineare il fatto che i ragazzi e gli faccio tantissimi complimenti si sono presi in carico la responsabilità di dire adesso facciamo vedere chi è Rovigo e secondo me addirittura l'arbitro poteva a questo punto aspettare visto che secondo me la meta tecnica doveva essere data forse nella mischia precedente perché era già era già palese a quel punto visto che c'era un'altra un'altra mischia che stava andando così sarebbe stato ma io lo dico magari un po' di parte di farne fare addirittura un'altra dando un cartellino giallo ai giocatori che si sfaldavano perché a quel punto lì se il Rovigo vuole mettere in chiaro una supremazia e l'arbitro non gliela concede palese allora vuol dire bene allora se giochiamo duro dobbiamo essere pronti anche a prendere decisioni dure e non è stato fatto quindi è stato un po' graziato il Reggio Emilia in quell'occasione perché si vedeva chiaramente che la mischia del Reggio Emilia proprio non c'era più insomma i regolamenti non li faccio io voglio dire sono scritti ecco comunque la mia riflessione era più ampia sull'uso della mischia sull'uso della mischia avanzante quando è dominante rispetto agli avversari non di certo quando sei mezzo pali che avrebbe poco senso insomma questo aspetto sì ma è una strategia questa che è stata recepita in maniera perfetta dai ragazzi che erano preparati a prendersi la responsabilità questa è una cosa che magari uno spettatore dagli spalti coglie la positività della meta ci sono tanti altri messaggi sottostanti a una decisione e a un'esecuzione del genere certo Ivan tu prima la trasmissione menzionavi qualche giocatore che ti è piaciuto particolarmente insomma dimmi un po' la tua visto che parliamo di mischia dicevo a Stefano e a voi che se avessi dovuto dare il mio uomo del match a parte che Edo Lubian è uomo del match a priori ancora prima di entrare in campo solo quando mette il caschetto Edo Lubian è uomo se l'ha anche tolto ma era man of the match secondo me bisogna dare il man of the match ad onore e poi si fa il secondo man of the match ecco a parte quello il giocatore che mi è piaciuto di più e che insomma sono contento di vederlo in crescita così è Ortis Venanzio come lo chiamano gli amici mi è piaciuto molto perché appunto se la mischia a retto vuol dire che in spinta vale perlomeno Boggiani l'ho visto giocare fuori dal campo in una meta quella di Cioffi dicevamo è stato determinante nel passaggio decisivo l'ho visto saltare bene in tusce l'ho visto rubare anche due tusce ecco siccome appunto di Ortis mi parlano già da due o tre anni da quando eri nazionale giovanile insomma ed è un prospetto come dicono quelli che ne capiscono di rugby a differenza mia è un prospetto su cui puntare spero che questo sia davvero il suo anno avendo due giocatori in seconda linea forti bravi ma un po' avanti con gli anni come Parker e come Boggiani secondo me c'è il mix perfetto per poterlo sfruttare e dosare e poi se davvero sarà così forte andrà via per quel discorso che ti dicevo prima del Celtic e di cose di questo genere però ecco secondo me questo deve essere l'anno di Ortis come dovrebbe essere l'anno di Mantelli e dello stesso Cadorini e di altri giocatori che se poi vogliono spiccare il volo per andare oltre l'eccellenza devono dimostrare in una stagione il loro valore ecco Stefano Ivan ha menzionato Ortis prima abbiamo menzionato i piloni si è parlato di Cioffi della sua meta insomma un gruppo di giovani arrivati quest'anno chi l'anno scorso che sta prendendo sempre di più valore all'interno di questa squadra sempre più responsabilità che rappresentano ovviamente in quest'ottica di turnover al quale l'eccellenza ormai ti pone sta prendendo un valore sempre più più forte per il nostro club se sono in prima squadra è perché hanno delle qualità e quindi dobbiamo dobbiamo sempre stare molto attenti diciamo ad osare ad osare i giudizi su questi ragazzi perché non deve passare secondo me un concetto che quando si è giovani se si dice bravo a uno gli si dice bravo in proporzione al fatto che si sta comportando bene e in prospettiva arriverà probabilmente o possibilmente a certi livelli però il bravo è un bravo di incoraggiamento non per la prestazione analizzata dall'inizio alla fine secondo un canone diciamo di giocatore di giocatore completo non è un valore assoluto non è un valore assoluto esatto quindi quando noi mettiamo in campo questi giovani e sono bravi sì è giusto dire che sono bravi e lo sono però è anche giusto che si sappia che andando avanti ci si aspetterà di più e quindi devono far vedere di più quindi alla fine noi siamo contentissimi dei nostri giovani ripeto altrimenti non sarebbero con noi però ecco gli standard che richiede la Rugby Rovigo e un futuro da regbista affermato devono essere conseguenziali insomma oserei dire e tu visto che hai debuttato da giovane da giovanissimo puoi confortare in questo giudizio oltre che gli standard della Rugby Rovigo e del rugby futuro anche gli standard proprio personali perché insomma uno che arriva a giocare a rugby come in qualsiasi sport o in qualsiasi campo della vita credo abbia l'ambizione di ottenere il massimo dalla propria passione e quindi è questo che deve muovere questi giovani e di conseguenza portarli poi in prospettiva a questa crescita abbiamo parlato molto della vittoria della FEMI CZ Rugby Rovigo Delta in quel di Reggio Emilia sabato sabato 30 esordio casalingo qui al battaglini contro le Fiamme Oro una squadra quella di Guidi che ha fatto molta fatica a vincere contro Mogliano Stefano è più diciamo la prestazione non completamente positiva della squadra delle Fiamme Oro o Mogliano che fosse stato sottovalutato in termini di preseason Mogliano probabilmente è stato sottovalutato un po' da tutti così è partito senza tanti clamori facendo intendere che stava lavorando più per raggruppare una squadra degna di questo nome anziché diciamo una compagine in linea con il livello degli ultimi campionati però Mogliano è vicino a Treviso è una terra fertile per il rugby quindi non bisogna sicuramente pensare che gli altri siano così presi male da non riuscire a proporre qualcosa di interessante il Mogliano già nella partita contro il Viadana della settimana precedente all'inizio del campionato aveva fatto intendere che c'era 28 a 26 frutto di 4 metri per parte la sola differenza che c'è stata è stata una trasformazione sbagliata vuol dire che è una partita che è stata giocata a viso aperto e magari io non l'ho vista però presumo possa essere considerata un po' giocata alla pari o molto vicino alla pari per cui io non sono sorpreso così tanto del risultato le Fiamme Oro sono come noi una squadra importante una squadra che è strutturata per andare per arrivare fino in fondo e l'inizio di stagione è sempre delicato quindi si mette insieme queste due cose un po' l'effetto sorpresa del Mogliano un po' il un po' di gambe molli diciamo per l'inizio delle ostilità con i punti in pallio ecco che che si spiega tutto forse anche un po' di pressione per queste Fiamme Oro che per la prima volta qualcosa non anche il Ministro premiare vuol dire ci sono delle aspettative attorno a questo club ormai guarda non so la pressione perché non conosco l'ambiente delle Fiamme Oro però se dovessi usare uno slonga direi che le Fiamme Oro sono condannate a vincere visto che sono poliziotti alla faccia della pressione visto che sono anche poliziotti perché quest'anno più di tutti gli altri o meglio sommando quello che è successo negli ultimi anni possono essere considerate le regine del mercato nel calcio poi si dice chi vince lo scuetto d'agosto non sempre lo vince a maggio è vero però ditemi una squadra che ha potuto ingaggiare pur non essendo ancora poliziotto tra l'altro nel suo roster il giocatore italiano numero uno dopo Parisse e quindi l'unico giocatore di livello internazionale che c'è nel campionato italiano ditemi una squadra che ha se non abbiamo fatto male i conti 42 giocatori in rosa più o meno con terze linee doppie triple lo stesso in altri ruoli ditemi una squadra che ha la possibilità di andare a pescare i migliori dell'eccellenza e portarli via le altre squadre non andando in Celtic ma giocando in eccellenza ditemi un'altra squadra che ha l'unico allenatore che in due campionati ha il 100% di vittoria degli scudetti Guidi che ha la sicurezza economica che fa i professionisti cioè hanno tutti gli elementi per arrivare ad essere non solo favoriti a mio avviso per conquistare la finale quest'anno ma per diventare quello che può essere il Calvisano e il Rovigo del futuro cioè una squadra che con queste premesse caratterizza un ciclo un'epoca ecco quindi secondo me lo vedremo subito anzi l'abbiamo visto in amichevole con un Rovigo che era la prima amichevole loro erano già più avanti però insomma sono venuti a vincere al Battaglini lo vedremo sabato e io continuo a dire che insomma le Fiamma Oro le dobbiamo considerare la squadra favorita insieme a Calvisano sicuramente per la finale a maggior ragione dopo la vittoria esterna banco di prova interno sabato con le Fiamme Oro molto importante che per testare i miglioramenti di un Rovigo che come dicevi tu prima Ivan ha affrontato le Fiamme Oro nel primo test stagionale con le Fiamme Oro mi sono ricordo male avevano un mese in più di preparazione rispetto al nostro club adesso ovviamente i livelli sono parificati per cui sarà sicuramente un'altra partita no? Stefano Ivan chi vuole? io io sono parte in causa e quindi faccio fatica a dire qualcosa di più concordo che le Fiamme Oro sono una squadra che è stata costruita per arrivare in alto io dico che la prima partita è stata una partita che noi abbiamo affrontato in maniera molto molto naifa anche se vogliamo nel senso che non abbiamo avuto timore di organizzare una partita contro una squadra che sapevamo già in preparazione da un mese e mezzo e noi l'abbiamo messa nel conto delle cose che ci poteva stare una sconfitta la sconfitta c'è stata io ricordo anche che abbiamo segnato due mete per parte e quindi se vogliamo una qualche parvenza diciamo di di equilibrio che magari si è spostato un po' di più dalla parte delle Fiamme Oro ci sta sono convinto che le Fiamme Oro come noi troveremo una squadra delle Fiamme Oro tosta da giocarci contro io sono altrettanto convinto che anche le Fiamme Oro non verranno qui prendendo la partita tanto facilmente perché sanno benissimo che troveranno una squadra come la nostra che vuole prendersi sotto certi aspetti anche la rivincita dell'amichevole che abbiamo lasciato loro sarà una partita veramente molto ma molto bella nei contenuti poi speriamo che sia bella anche in quello che ci sarà mostrato insomma una partita molto interessante ecco tra l'altro sabato quindi fra due giorni l'esordio casalingo della Fiamme CZ Rugby Rovigo Delta riapre anche Bersagliottoland questa area dedicata ai bimbi per cui se volete venire a vedere il match avete dei bimbi non preoccupatevi perché Faidesfa Ollus saprà accudire i vostri figli durante il match che si divertiranno con animatori certificati tutto sarà molto molto sereno e tranquillo la possibilità di divertirsi allo stadio dando anche il giusto spazio ai vostri figli Ivan giusto per chiudere la trasmissione è stato un weekend comunque assolutamente positivo per il rugby italiano con due vittorie anche in Celtic Benetton in casa con gli osperi e addirittura le zebre dominando i Kings a Porta Elisabeth sì forse era capitato solo un'altra volta o due volte in questi otto stagioni di Celtic di Pro XIV scusa che le due italiane vincessero nello stesso turno sono stato piacevolmente stupito della vittoria del Benetton perché vuol dire che quello di Edimburgo non è stato un exploat ma stanno costruendo probabilmente un percorso più virtuoso di quello della scorsa stagione non mi ha sorpreso la vittoria delle zebre perché guardando i Chitans da qualche stagione anche nel Super 18 per quanto i sudafricani siano appunto una potenza del rugby avanti a noi insomma mi sembrava una squadra veramente con delle basi non solide ecco grandi corridori soprattutto certi giocatori di colore grande capacità di muovere la palla d'attacco ma difesa mischia e quelli che sono i fondamentali veramente fragili e le zebre sono state brave ad approfittarne quelle che non erano riuscite a fare la settimana prima contro i Citas che però abbiamo visto battendo il Leinster hanno dimostrato di avere una solidità superiore quindi sicuramente una poi ci sono anche le mete dei giocatori italiani nei campionati esteri a completare questo weekend non male e poi c'è stata a mio avviso anche una serie di sfide in eccellenza che dimostrano che si è ripartiti esattamente nel modo dell'anno scorso con il Calvisano superiore a tutti quanti le Fiamme Oro che devono stravincere che comunque fanno fatica Rovigo che non fa il punto di bonus San Donà che deve essere la rivelazione ma chi alla fine perde a Via Dana però ecco secondo me ecco la Lazio che va a vincere e va a perdere senza concedere il bonus al Petrarca che era uscito dalle amichevoli prestagionali come la squadra migliore numeri alla mano perché era l'unica che le aveva vinte tutte insieme al Reggio ecco da questa prima giornata se le premesse si mantengono dovremmo vedere un'eccellenza che pur restando forse fissa nei valori dovrebbe esprimere un livello di equilibrio superiore Erovigo tra l'altro con la partita in casa con le fiamme oro e poi la trasferta a San Donà secondo me testerà subito questo tipo di eventuale equilibrio Stefano mi leggo a quanto dice Ivan ma se le due franchigie che giocano nel Pro 14 stanno tenendo questi risultati soprattutto le zebre le zebre sono piene di giocatori che arrivano dall'eccellenza c'è poco da fare quindi il valore dell'eccellenza è sempre standard o ha qualche aspetto migliore rispetto a qualche anno fa allora qui magari mi faccio degli amici o dei nemici a seconda dei punti di vista il livello dell'eccellenza non è vero che è così basso come vogliono far credere i giocatori individualmente sono preparati bene e la prova ne è che adesso magari è facile dirlo perché perché magari le zebre le hanno vinto però giocatori come Gian Marioli come Minozzi come Bellini che giocava nel Petrarca il campionato quello ancora scorso sono giocatori che in eccellenza si facevano vedere che erano bravi ma non è che sbaragliavano la concorrenza quindi voglio dire non è così automatico pensare che perché stiamo parlando di eccellenza e viviamo in un cono d'ombra mediatico che qua le cose non si muovono io per quello che vedo il Rovigo per quello che vedo per la serietà che vedo nell'impegno di tante squadre tipo il Calvisano le Fiamme Oro c'è un'attenzione al Petrarca tutte possiamo dire sotto molti aspetti c'è un'attenzione al lavoro specifico che è molto ma molto degna di essere riconosciuta e invece sembra che stiamo giocando fra i poveri ma belli in realtà non è proprio così e infatti io sono molto contento che i giocatori che giocavano in eccellenza vadano in Sudafrica e diano 43 punti a una franchigia sudafricana poi a me non interessa molto che i sudafricani abbiano messo in campo le terze scelte vuol dire che meritavano di mettere in campo quelle un po' un po' migliori cioè è sempre un gioco di equilibri oltre che però i nostri giocatori io sono convinto che qua a Rovigo individualmente ce ne sono tre o quattro che se tu li prendi individualmente e li metti al massimo livello di sicuro non sfigurano anzi anzi e questo ce l'auguriamo vedere i nostri giocatori in un futuro prossimo darci soddisfazione perché comunque che uno si di Rovigo non si di Rovigo se passa da Rovigo comunque resta sempre legato al nostro club siamo in chiusura Rugby House prima trasmissione dell'anno l'appuntamento è fra due giorni in cui lo stadio Mario Battaglini per l'esordio casalingo dei bersaglieri contro le Fiamme Oro in un match come si diceva anche in trasmissione dai grandi contenuti dal grande divertimento grazie Stefano adesso è stato con noi buonasera grazie ancora ciao grazie Ivano ovviamente grazie a voi e ciao a tutti noi ci vediamo sabato qui puntuali a Tifare Rosso Blu buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti